Signori e signori, la mascherata finale in attesa di Martino e Mariana. Signori e signori, la mascherata finale in attesa di Martino e Mariana. Signori e signori, la mascherata finale in attesa di Martino e Mariana. Signori e signori e signori, la mascherata finale in attesa di Martino e Mariana. Signori e signori, la mascherata finale in attesa di Martino e Mariana. Il capellino, me l'ha consigliato ormai, quando giocavo a carte dopo 5 o 16 medicine di carici, ti rovo su, il capellino per te, Stelina, per me, per me, per me, perché stasera ti voglio Allora, c'è la presenza di I.S.C., mi sono d'accordo, è tutte stasera e tu me non ricordo prima cosa che ho chiesto. C'ho messo in ICI. E tu, ma chi è? Tu me? Ma qui? Ma chi è la mia? Mi vuoi? Lo vuoi provare tu? No, sei sicura, Mariana, allora, che bella che sei? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.